Mano a mano che passa il tempo, signori, arrivano sempre più conferme, in pratica Elisabetta Gregoraci avrebbe davvero un nuovo fidanzato. E allora lui non è affatto uno sconosciuto, anzi uno conosciuto, avendo già avuto in passato delle relazioni sentimentali proprio con delle VIP. Nelle scorse ore a fornire maggiori dettagli è stato il settimanale chi, che sapete è sempre informato, no? E ha parlato di un avvistamento in un luogo ben specifico, infatti i due piccioncini starebbero cercando di non mostrarsi in maniera pubblica, ma sono sempre più sotto pressione e sapete, qualche foto potrebbe sempre spuntare fuori. Di Elisabetta Gregoraci non si sta parlando esclusivamente del nuovo fidanzato, infatti il figlio Nathan Falco ha ripreso le lezioni a fine agosto parlando di scuola perché frequenta un istituto privato internazionale e il calendario imposto agli studenti è un po' diverso rispetto a quello delle scuole pubbliche. Quindi Nathan Falco vive a Monte Carlo attualmente, dove sorge uno dei migliori istituti europei che tra l'altro costicchia anche un po' di soldini e la retta infatti va dai 10.000 ai 30.000 euro all'anno e accoglie studenti dai 3 fino ai 18 anni, quindi lui rientra perfettamente. A parte questo, diciamo che non sono arrivati annunci da parte né di Elisabetta Gregoraci e né del presunto nuovo fidanzato, ma chi ha comunque sottolineato che i due si troverebbero nella meravigliosa regione Sicilia attualmente, probabilmente per godersi ancora un altro po' di estate prima che di fiondarsi nella vita di tutti i giorni, nella classica routine. Tra l'altro c'è chi ha notato anche un'altra cosa. In una foto pubblicata da Eli nella città di Noto è arrivato proprio il like della sua possibile fiamma. Quindi capiamo un attimino di chi stiamo parlando. Allora, innanzitutto sempre il settimanale ha riportato e ha detto Elisabetta e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, che continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumors li segnalano insieme in Sicilia, in un resort di totale lusso. Sarebbero precisamente al San Corrado di Noto, dove per soggiornare c'è bisogno di almeno 500 euro a notte. Non resta adesso che attendere qualche attività da parte della showgirl calabrese, che potrebbe anche uscire allo scoperto dato che ormai, beh, la notizia è praticamente diventata pubblica. Vedremo cosa succederà, poi lo sapete non ci facciamo sfuggire nulla, ma parlando di Giulio Fratini, per chi è curioso di sapere chi è, lui è un imprenditore molto ricco, che ha 12 anni in meno di Elisabetta Gregoraci, e il padre è Sandro Fratini e ha avuto un'eredità consistente con il brand Ralf, famoso a livello internazionale. Invece Forbes, Forbes è la famosa rivista, lo ha inserito nella lista dei talenti under 30. Il genitore è celebre anche per la sua collezione di orologi, avendone più di 2000, veramente tantissimi. E questo è tutto per questa piccola curiosità finale. Vi ringrazio per l'ascolto, se volete pollice in su per supportare il canale, noi ci becchiamo alla prossima notizia utile, sempre qua.